Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina, io sono Daniele e sto guidando e sto fermo in mezzo al traffico come tutte le mattine e sto andando in ufficio e parlo di homebrewing, birra artigianale, birra fatta in casa e tutto quanto quello che ci sta intorno per 5 minuti o poco più se è la prima volta che sei qui ci sono un sacco di puntate, vattene ad ascoltare e poi fammi sapere che cosa ne pensi a carbrewing.gmail.com oppure insomma ascolta questa puntata e poi fammi sapere sempre che cosa ne pensi l'importante è che mi fai sapere che cosa ne pensi se invece non è la prima volta che sei qui, sei ritornato, grazie per essere ritornato e siete di ascolta perché oggi veramente avrò tra virgolette un sacco di cose da dire è ritornato l'uomo della strada, anzi per essere precisi, l'uomo al volante con le sue riflessioni un po' a tutto tondo diciamoci la verità, in realtà questa è già la seconda versione dell'audio che provo a registrare perché nella prima versione mi sono lasciato talmente tanto andare che oltre ad essere diventato lunghissimo il podcast ho detto delle cose talmente tante confusionali di che cosa sta parlando? Sta parlando dell'eterno dilemma, l'avrei letto dal titolo della puntata sul prodotto migliore, sulla differenza, sulla guerra tra birra e vino allora ragazzi partiamo dal presupposto che comunque è un tema molto ciclico un tema che ogni tanto viene fuori, soprattutto su delle piattaforme dove si tende comunque a fare a gara chi ha il pisello più lungo, tra il mio prodotto è più buono del tuo oppure la mia passione è più bella della tua io sono più appassionato di te, perché io sono più bir sommelier di te io sono sommelier di te, eccetera eccetera abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, bene o male ci siamo capiti tutti in una discussione del genere io personalmente al di là delle collardie, quando si parla seriamente di discorsi del genere preferisco, tendenzialmente preferisco farmi gli affari miei più che altro per un motivo molto semplice, perché stiamo parlando di nulla stiamo parlando, è impossibile paragonare due prodotti così complessi e così ricchi di storia, di cultura, di tradizione, come quello che possa essere la birra e il vino ma questo ovviamente può essere allargato a qualsiasi contesto anche, che ne so, la produzione catalinga di formaggi la produzione catalinga di composte, distillati o chissà che altre per distillati intendo di moncelli, eccetera eccetera non proprio quelli distillati fatti con l'allambicco perché lì sono cose un po' più serie c'è di mezzo la legge, quindi non scherziamo con queste cose è impossibile fare un paragone tra questi contesti è come paragonare due mondi che non c'entrano assolutamente niente tra loro sì, hanno dei punti in contatto, sono bevande da pasto possono essere bevande da degustative possono accompagnare un pasto già l'ho detto questo possono aiutare una serata o chissà che altro i punti di contatto sotto certi punti di vista sono tanti però sono due prodotti completamente diversi sono due storie completamente diverse che in qualche modo non ha senso accomunare tutto qua, quindi quando c'è la guerra le famose guerre di religione trattiamole come tale appunto delle guerre di religione, quindi inutili quindi è inutile stare a fomentare o a continuare a cercare di avere ragione prevaricare l'avversario su chissà quali punti perché innanzitutto non ha senso secondo non troveremo mai un punto fermo perché sono, ripeto, la birra e il vino sono due prodotti completamente tanto diversi tra loro che non ha senso accumularli e poi soprattutto casomai se provi e dobbiamo fare una discussione la possiamo fare all'interno dello stile stesso del tema stesso allora cominciamo a dire qual è il vino più buono qual è la birra più buona qual è il formaggio più buono e così via però pure lì ricadiamo nello stesso elettrico errore perché vino buono che cosa significa? in base a quale stile? in base a quale vitigno? oppure la birra buona? in base a quale stile? in base a quale nazione? in base a quale lievito? eccetera eccetera allora a questo punto facciamo un ulteriore downgrade facciamo la gara a quale sistema di produzione è migliore e facciamo... e allora prendiamocela con gli abbisti prendiamocela con chi fa i kit prendiamocela con chi fa trettini prendiamocela con chi... cioè se lo scopo comunque è avercela per forza con qualcuno oh quanto potremmo starne a parlare potremmo starne a parlare per ore per decine di anni almeno e comunque ciò non toglie che trettini in merda comunque in ogni caso ritorniamo un po' sul tema principe della giornata di fronte a queste discussioni dovremmo cominciare a essere un po' più incisivi del tipo hai rotto il cazzo? perché è impossibile portare avanti una discussione su un tema così complesso e così articolato dove soprattutto non ci porta a niente recentemente mi è capitato di leggere su internet una discussione dove si faceva elogi diciamo così di un vino da tavola non da tavola da cucina per cucinare che viene solidamente utilizzato per cucinare quello molto a basso costo quello che viene venduto in brick e veniva elogiato come vino buono e poi soprattutto veniva fatto anche un confronto del tipo perché la vera birra tra virgolette con la V e la B maiuscola tra l'altro leggendo i vari commenti erano quelle industriali quelli che finiscono peretti tanto per capirci perché sono quelle le vere birre perché quelle sono vere birre che devono essere fatte in un certo modo ma che cazzo significa una cosa del genere? non significa assolutamente nulla se proprio vogliamo fare un discorso la differenza tra birra industriale e birra artigianale se proprio vogliamo vederla proprio in termini proprio pratici è una differenza legislativa è anche sì una differenza produttiva però questo non significa che a livello produttivo le grandi tra i colossi comunque ci sono delle eccezioni ci sono ecco quello che stavo cercando di che volevo dire in estrema sintesi quindi pure il fatto che e poi continuiamo ad alimentare sempre apriamo un'altra parentesi il fatto che sia artigianale non significa che sia buono come il fatto che sia industriale non significa che sia un prodotto pessimo insomma ci siamo capiti è tutto quanto ma tutto quanto come al solito contestualizzato anche perché pure i nostri fantastici BJCP prevede tra le categorie delle birre cerca comunque di catalogare e categorizzare anche le birre industriali le lager le basse fermentazioni insomma le birre quelle tipiche che vediamo nei nostri supermercati pure lì comunque cercano in qualche modo di categorizzarle e rendervi onore perché ragazzi comunque esistono non è che le possiamo cancellare perché a noi non ci piacciono esistono c'è tanta gente là fuori che beve quella roba quindi non ho capito per quale motivo non devono essere o devono godere minore stima di tutti quanti gli altri comunque ragazzi i discorsi sono tanti le tematiche sono tante me ne rendo conto non possono essere affrontate in circa 7 minuti abbondanti in cui sono riuscito ammetto che la versione precedente di questo audio che non pubblicherò a questo punto era molto più era molto più accolorata era un po' più era un po' piena di parolacce quindi ci siamo un po' in fascia protetta quindi avreste conosciuto dei lati di Garbrewing un po' blasfemi in ogni caso io sono arrivato in ufficio quindi vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo fantastico viaggio fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto se trovate un domani qualcuno che ha ancora voglia di alimentare queste guerre linkatevi questa puntata e soprattutto se non capisce consigliatevi ad andarsi a fare un giro perché a questo punto basta cioè basta dai ragazzi basta 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 perché sono arrivato in ufficio ciao ciao buona giornata grazie a tutti